Invece io, che sono milanese e che sono un po' meno giovane, so che sono anche più di 20 anni che aspettavamo tutti insieme questo momento, questo luogo e penso quanto sarà bello per voi, per quelli che abitano in queste zone, ma anche e soprattutto, visto che domani di fatto iniziano le scuole, anche per i ragazzi, per i giovani, per i bambini delle scuole, finalmente avere un posto più tranquillo, più sicuro, più bello per passare da una parte e dall'altra di Milano. Dico che stiamo cercando di fare tutto il possibile per rendere Milano più attrattiva, più gioiosa, più lieta, più facile, ogni tanto ci sono delle difficoltà, cercate di capirle, ma queste difficoltà, se ognuno ha la pazienza, alla fine si riescono a superare e gli obiettivi si raggiungono. Questa volta ce l'abbiamo fatta. Grazie anche a voi, grazie al lavoratore. Veramente l'accordo importante è anche il brindisi. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi.